Palla break è seconda. Scivolato Djokovic. Si è ripreso. E può passare. Attenzione, si piega. Credo solo si disperi perché non dovrebbe essere un po' preoccupante. C'è stato un momento in cui è scivolato Djokovic. Non accorre nessuno. Ecco qui che arriva il suo fisioterapista. Attenzione, che questo potrebbe essere un colpo di scena in questo quarto di finale. Si è arrivato anche Franson, il referee. Non si è fermato subito Djokovic. Ha continuato lo scambio. No, è incredibile. Caviglia destra? Sì. Ma anche la grande sportività del pubblico. L'attacco Bellarina, non solo i serbi. lo hanno incitato il numero uno del mondo Zoppica. Siamo appena al terzo game sulla palla break. Oh, io, io. Ecco che rivediamo. qui. Eccolo le, eccolo le. Ha fatto male solo a vederlo. Poi ha continuato. Continuato. Clamoroso. Eccolo qui. Mamma mia. Che si era un po' scordinato all'inizio, quando ha cercato di raggiungere questa palla, e poi momento in cui è caduto sulla sua caviglia destra.